che si ritrae, rinuncia al lancio. In partenza c'è lotta per il comando con il numero 5 Nilsson Starlight che sopravanza Maile Di Fee all'esterno Ottawa Fan. Più indietro invece il numero 1 di Orlando. Si va così su un gola piegata, la squadifica che coglie off US. La quarta posizione per Nives che ora cerca e potrebbe trovare posizione alla corda ai 400 metri di corsa in 29 e mezzo. Davanti alle tribune conduce sempre Nilsson Starlight nei confronti Maile Di Fee. Il volo all'esterno di Max Rod che rifà il gruppo, si trascina in schiena a Nives e cerca di portarsi a fiacco il battistata così che Nives rimane in terza corsia ai 600 in 47 e 2. Con Max Rod al fianco di Nilsson Starlight e poi in seconda pariglia c'è Ottawa Fan all'esterno tra i due Nives. Gli 800 di corsa in 1 e 4. Andatura sicuramente non velocissima ma con davanti sempre Nilsson Starlight. Ora addirittura in quarta corsia si avventura Nikla con il numero 8 al chilometro. L'errore di Nikla a prossimità del paletto del chilometro. 1.19 e mezzo il passaggio ai 1000 metri. Nel frattempo Nives è stato attuato posto in seconda pariglia. Davanti cerca di andare via Nilsson Starlight. All'esterno si ingamma anche Netspiritanz che è in terza corsia lungo l'ultima curva. Davanti c'è sempre Max Rod di fianco a My Lady Fee. Si va così al completamento della piegata con Nilsson Starlight che affronta l'addirittura da leader nei confronti di My Lady Fee e Max Rod. Più indietro gli altri Nilsson Starlight ancora al comando. Ci prova fino alla fine anche Max Rod negli ultimi metri. Ancora Nilsson Starlight che viene a concludere nei confronti di Max Rod per il terzo. probabilmente ancora Nives. 2.4 e 2 il tempo totale. Con 1.17 e 6 di media al chilometro. Andiamo a rivedere gli ultimi metri di corsa. Con Lilsson Starlight che se l'è fatta tutto al comando. con Giuseppe Buompane Junior viene a concludere nei confronti di un comunque positivo Max Rod. Per il terzo c'è il numero 6 Nives e quindi 5.12.6 l'ordine di arrivo provvisorio della prima.